Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Apriamo i nostri cuori, invochiamo lo Spirito Santo affinché il Signore ci possa parlare anche oggi attraverso la Sua parola. Leggiamo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, 7, 12. Allora Egli disse ai Suoi discepoli di tenerli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di Lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai Suoi piedi e gridavano, Tu sei il Figlio di Dio. Ma Egli imponeva loro, severamente, di non svelare chi Egli fosse. Amen. Ecco, cari amici, quindi insieme a questo Vangelo di Marco vi vorrei leggere anche la prima lettura che oggi ci viene proposta, dalla lettera agli ebrei, capitolo 7. Fratelli, Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere al loro favore. Questo era il Sommo Sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i Sommi Sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce Sommi Sacerdote, uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce Sacerdote, il figlio reso perfetto per sempre. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un Sommo Sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della Maestà nei Cieli, ministro del santuario e della vera tenda, che il Signore, e non un uomo, ha costruito. Ogni Sommo Sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici, di cui la necessità che anche Gesù abbia qualche cosa da offrire. Se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la legge. Questi offrono un culto che immagini e ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè, quando stava per costruire la tenda. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora invece, egli ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore e l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Amen. Carissimi amici, oggi vi ho voluto leggere anche la lettera agli ebrei, poiché, come sapete, ogni giorno la prima lettura e il Vangelo sono molto collegate strettamente tra di loro e ci vogliono annunciare il Vangelo in forme diverse. Innanzitutto, ciò che abbiamo ascoltato, sempre nel capitolo terzo del Vangelo secondo Marco, è che la gente è attratta da Gesù, è una grande folla che sta cercando il Signore Gesù, accorre a Lui perché ha visto i segni, i prodigi che compie. E questa folla, dovunque va, ma soprattutto anche gli spiriti impuri, quando lo vedevano, dice il Vangelo, cadevano ai suoi piedi e gridavano tu sei il figlio di Dio. Ecco che c'è un'autorità di Gesù. Ecco che in Gesù, fratelli e sorelle, vediamo il Kyrios, in greco il Signore. Una parola, un termine che indica per noi, questo Kyrios, Signore che è risorto, una efficacia, un'autorità. Lo abbiamo visto in questi giorni. Gesù lo sposo, ma al tempo stesso il Signore del Sabato, il Signore di tutto il nostro essere, il Signore che ha l'autorità. Ma oggi diremo qualcosa di più, dalla lettera agli ebrei. Cristo è il Sommo Sacerdote per eccellenza. E quando parliamo di Sommo Sacerdote sappiamo, conosciamo il contesto di Israele. Il contesto di una legge dove soltanto, attraverso lo spargimento di sangue, di sacrifici, sacrificio quindi di un sacerdote, in particolar modo il Sommo Sacerdote una volta all'anno, nel Santo dei Santi, venivano perdonati i peccati del popolo di Israele. Gesù quindi per noi, riassumiamo il Vangelo di Marco, è lo sposo, è il Signore del Sabato, è colui che crea prodigi e miracoli nella nostra vita, e oggi diremo è il Sommo Sacerdote. È il Sacerdote per eccellenza. La lettera agli ebrei dice che lui era santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori. E proprio per questo, perché era Dio, quello che ha offerto per noi è molto molto più grande di quello che poteva fare un sacerdote umano. Ecco perché dice che questo Sommo Sacerdote adesso ha siso la destra di Dio a ogni potere. Questo Sommo Sacerdote ha la capacità di venire incontro a noi, ha ricongiunto ciò che l'uomo aveva spezzato attraverso il peccato, ciò che noi, fratelli e sorelle, quotidianamente spezziamo. Perché a volte quando non abbiamo fiducia in Dio, quando ci scoraggiamo, quando cadiamo, quando ci rattristiamo, quando siamo in discordia tra di noi, perdiamo la speranza, lasciamo entrare l'accidia, la pigrizia spirituale, lasciamo entrare la carne nella nostra vita, non ci allontaniamo da Dio. ma Gesù è perennemente ormai, da quando è risorto, per noi quel Sommo Sacerdote in grado ogni volta di ricongiungerci al Padre. Questa è la sua efficacia, questa è la sua potenza, in questo c'è la grandezza della lettera agli ebrei. Gesù ha offerto se stesso affinché noi possiamo ricevere tutta la pienezza. E guardate che non sto parlando di cose solo teologiche e spirituale, ma sto parlando della nostra vita pratica, della nostra vita quotidiana, di quando noi anche oggi avremo difficoltà o ci siamo svegliati nelle difficoltà, magari nella malattia, in una crisi che stiamo vivendo, in una depressione, in una forma di angoscia di questo tempo a causa della pandemia, di tante restrizioni, Dio viene in nostro aiuto, Dio viene a visitarti in questo giorno. Ringraziano insieme a me, perché Lui è davvero il Signore Gesù, un sommo sacerdote, in grado di venire in aiuto a noi perché dice la lettera agli ebrei che Lui è stato messo alla prova corporalmente, ha sofferto sul suo corpo e grazie a questo è in grado di capirci, comprenderci e venire in aiuto a tutte le nostre difficoltà e necessità. E allora ripeti insieme a me, vieni Signore Gesù, io ti voglio invocare oggi nella mia vita, ti invoco affinché tu possa regnare con la tua parola, con la tua maestà, con la tua signoria, con la tua regalità, entra anche oggi nella mia casa, entra anche oggi nel mio cuore e donami di sperimentare che tu porti libertà nella mia vita, tu porti la pace nella mia vita, io ho bisogno di te Signore Gesù, vieni, vieni oggi, mostrati vivo, presente nella mia vita, mostrati risorto, affinché io possa gioire perché tu compi grandi cose, la tua destra fa prodigi anche oggi per me. A te Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, non temiamo alcun male, Dio è con noi, Dio è davvero vivo, come ha detto la lettera agli ebrei, al nostro fianco, un sommo sacerdote e non ci abbandona mai. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio dalla coinolia Giovanni Battista, Oasi di Biella, a domani, ciao. Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà.